Ciao Buona giornata Com'è oggi? Oggi siamo belli carichi Fai un girettino test così o niente? Sì, sì, adesso guarda sto prendendo la moto che è quella là, da Valentini. Adesso giusto per formalizzare un attimo di burocrazia e poi si va alla grande. Ciao cari! Quando ci sono le cose importanti ci sono anche le persone importanti. Quella! Quella! Com'è? Sì, tra l'altro stanno cercando di... Sì, per Luca. Sì, tu? Un po' che ferro! Devi ricaricare la Tesla? Sì! Tu hai la molla, hai la cartuccia e il montaggio. Devi avere un precarico, cioè che è il precarico della molla e che devono essere in base alla scheda. Quindi ti viene tutto. Quindi se la vai in stella retezza ti dice quanto la molla deve essere compressa. E in più, tu puoi lavorare sul precarico della molla. che è la mia? No, non ho toccato. Però da manuale avevo capito che doveva indurere in un modo e al generale. Però guardando l'editoria, l'editoria capivo il contrario. E tu parti già con una buona cosa. Poi è chiaro che il precarico dice sull'altezza, sui guidi, su tante cose. Quindi in base anche a alcuni guidi sulla moto, ti andare a lavorare sulle ruote, sulle ruote, sulle ruote, sulle ruote. le ruote sono più centrati, più centrati. E quindi lì ti cambia anche mai il negativo che vai a dare. Diciamo che su queste moto qua, avendo un punto abbastanza notevole, i trasporti capito di dare...